Come faceva mio padre Giorgio Sciorbanco a conciliare il lavoro di giornalista e di scrittore? Credo che gli venisse facile, forse perché ha cominciato così, ha cominciato con questi racconti e articoli sulle riviste e poi ha continuato dirigendo e curando queste riviste e continuando a scrivere articoletti e romanzi, racconti, romanzi appuntati a tenere la posta con le lettrici. Credo anche che la posta con le lettrici in particolare gli abbia poi fornito molto materiale, un contatto con l'anima più vera delle donne che gli scrivevano, molto materiale per i suoi romanzi, sia rosa che anche per quelli successivi noir. E quindi è riuscito a fondere questi due aspetti di giornalista e di scrittore con, secondo me, ottimi risultati, anche proprio personali, era nella sua natura ed era un lavoro che amava molto. Nel riguardo al noir di oggi, ecco, credo che il noir di mio padre fosse molto, ma molto legato alla realtà. Mio padre partiva sempre da delle storie vere, raccontava delle vite vere e raccontava quello che lui vedeva e che gli accadeva attorno, scegliendo persone assolutamente normali. Era molto interessante, e credo che questo gli venisse proprio da tutti questi anni di giornalismo, alla zona grigia, al male che può colpire ognuno di noi e che ognuno di noi può compiere. Non ai serial killer, non al fantasy, non alle storie strane e contorte. Era proprio, potrei dire, il male quotidiano, quello che lo interessava e che lui aveva sempre incontrato nel suo lavoro. Grazie.